Spaisati si dicono senza più la loro guida spirituale, prima in ferie forzate due mesi, poi trasferito. Biceglie, parrocchia San Vincenzo de Paoli, fino a qualche tempo fa qui c'era padre Onofrio Cannato, responsabile anche della Caritas cittadina. La sua congregazione ha deciso che doveva lasciare, lui ha obbedito e non parla per i suoi fedeli, però qualcosa non quadra. Lo hanno accusato di essere malato, lo hanno accusato di essere visionario e a noi tutto ciò non risulta, per cui effettivamente non riusciamo a capire il motivo per cui hanno spostato questo parroco, ce lo hanno sottratto, lui che ha portato avanti una pastorale bellissima in questi quattro anni e mezzo, lui che ha fatto nascere praticamente questa parrocchia. Le bocche rimangono cucite un po' ovunque, il vescovo della diocesi di Trani ha solo confermato il trasferimento deciso dalla congregazione. Il superiore provinciale, padre Giuseppe Guerra, spiega che non è possibile per un sacerdote continuare a dirigere una comunità parrocchiale in un clima teso, in contrasto anche con la comunità missionaria vincenziana. I fedeli non si arrendono e vogliono arrivare fino al Vaticano. Non ci sono spiegazioni, c'è solamente la possibilità di dare spazio a qualsiasi ipotesi e questa cosa è penosa.